Buongiorno Qual è stato il gol più difficile? Tutti i gol Tedi è un bravissimo ragazzo È venuto con noi dall'anno scorso Provinente dal Lanciano Quest'anno è esposo con mister Gabriele Realizzando 42 gol Il campionato Renato Dite che è l'unico che si può abbinare Lo studio con il calcio Scusa Allora il campionato Giustamente mi ha dato un ottimo suggerimento Perché siccome durante l'anno A volte ci troviamo O sui gruppi O direttamente sul campo Che mancano magari a volte Manca un ragazzo Perché manca? Lo studio Perché lo studio Perché lo studio Allora Ma tra una realtà Ha dato un allenamento Ha preso la media del 9-10 9-10 9-10 All'inizio scientifico Bravo 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 Quindi ragazzi Vuol dire che se vi organizzate Se vi organizzate Nella vita si può fare tutto Si può studiare Si può giocare a pallone Si può fare tutto Bravo 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 Allora adesso passiamo Eccola a sinistro C'è un sinistro proprio Micidiano Sinistro a micidiano Quanti gol 30 gol Analizzati Nel campionato Esorbiato Bravissimo Ma Qual è stato il gol più difficile? Nessuno Pure a lui Tutto facile Quindi vuol dire che I ministri hanno lavorato bene E' tutto facile Va bene Secondando Marco Ecco il nostro presidente Che sta premiando Marco Ceroli Capogliere 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 Adesso Sicuro Sicuro al Memorial Hanno sbagliato Qualche Tarchetta A farla Non abbiamo Consigliato Un pari di tre Capogliere 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 a Pulcini 2007, quale è stato il più difficile? Nessuno, non è qua, non può fare, non è vero. Allora adesso, capo cannoniere, Pulcini 2007 al memoria, è stato Francesco Tucci. Bravo Francesco! Francesco, quante cose hai fatte al memoria? No al campionato, al memoria, al campionato, al memoria sei gol, quale è stato il colpo di qui? Nessuno, non è facile, e poi è qua, qui è qua. Andate a fare la foto con il suo Carlo. E poi c'era la Coppa per i Pulcini 2007, i primi classificati, con la targhetta, ero sbagliato, andiamo a rifare. Chi sono riporti stasera? Io! Io! Allora a turno ve lo riportate e poi lo riportate. e poi c'è il primo classificato, la memoria dei primi calcoli. è il 2009, quindi la Coppa... 2008 o 2009? La Coppa per stasera... 2009? 2009? Io! Allora, qual è un 2009? Mario! Allora a turno ve lo riportate, ve lo girate e poi lo riportate. Bravo! Bravo! Bravi ragazzi, dai, potete partire dal memoria. Grazie a voi! I miei amici sono stati bravi, dal memoria al Fiora Tessa, al torneo di Atessa Secondi e al memoria... Grazie a tutti!